È meglio un PC o un Mac? Ci sono diverse considerazioni emotive quando si sceglie un PC piuttosto che un Mac. È colpa del marketing, che associa un determinato tipo di dispositivo ad una certa fascia di utenza target, accomunata dallo stesso insieme di convinzioni. Molte persone sono contrarie al sistema chiuso di Apple. Sui Mac, infatti, è possibile eseguire soltanto software approvato da Apple, al contrario di quello che avviene sui PC, sui quali puoi far girare software arbitrari. Un grosso svantaggio dei Mac è che molto spesso, anzi quasi sempre, non potrai fare da solo gli upgrade della memoria RAM e dell'art disk. Nella migliore delle ipotesi sarà possibile farlo soltanto rivolgendosi ad un centro di assistenza specializzato. La prima domanda che devi farti quando scegli un computer è A cosa mi serve? E la seconda domanda che dovresti farti è Che budget ho? Dopo esserti chiarito questi due punti, considera questi miei consigli. Se hai un budget basso, compra un PC. I PC costano meno dei Mac perché sono costruiti con materiali di qualità più scarsa E inoltre c'è più concorrenza. Se tieni molto al design, scegli un Mac. Se usi un computer per giocare, devi per forza prendere un computer da gaming. I Mac non sono adatti ai videogiocatori professionisti. Vuoi la libertà di eseguire qualunque software che ti dà fastidio il controllo dell'Apple? Scegli un PC. Se vuoi un computer che duri a lungo, scegli senza dubbio un Mac. Hanno una longevità esagerata. Il Giro